Permettetevi un saluto davvero grave perché in questi giorni, pochi giorni sono andato qua a San Lorenzo, nobite davvero di tutti i colori, cioè colori verdi, armoncenti, che si sono susseguiti all'autorio, qui in Misa, a percorrarsi degli scambi, ieri anche, e questa è l'ultima della sede. Naturalmente mi rende felice il fatto che il testo l'avevo scritto io, lo scritto io lo scorso anno, per fare ancora con le lingue, stavano pensando a qualcosa del genere, cioè a un piccolo spettacolo che riducesse alla messa di mezzanotte. Poi, è vero, San Lorenzo è un pochino più grosso, volendo un pochino più piccolo, allora io penso no, io no, io vado via, e alla fine lo spettacolo è saltato. E allora è rimasto nel cassetto. Ecco, tra le tante cose che ho perso, nel terzo uomo, c'è anche, sapevo che avevo scritto qualcosa, ma non sapevo più in quale cassetto avevo scritto, meno male facendoci. E sono stato a rileggere, ecco, il personal computer, il testo, e l'ho portato, che vedo un pochino, se vi vuoi dire, sai, era che tornerà, non era la domina competenza di Dante Alivieri, sì, qualcosa di meno, qualcosa di più basso, però nasceva dall'idea, così, ecco, di riportare la storia della notte santa nel linguaggio di oggi. E' uno dei linguaggi possibili, ho qui vicino la giornalista che queste ore le parla, sono le giornaliste, sono le interviste, quindi lo spettacolo si gioca su una sequenza di interviste. Mettete un angelo in un uomo, che va in cibo per la notte, che vede una coppia in accentuazione con la donna con l'ancione, mettete l'angelo su un movimento di passione in un centro, mettete l'angelo che va a finire a Gerusalemme, e vedete che sono angeli che vengono nella vita, come non suscitare la curiosità dell'angelo. E allora l'angelo ha fatto che le interviste, e tutto lo spettacolo è costruito intorno alla sequenza di queste interviste, che si raccontano a quello che già sappiamo. Ma sapete che storie, anche se sono conosciute, sono sempre belle, intanto perché sono diversi in un uomo, e secondo perché sono interpretati in maniera diversa. E io sono convinto che i ragazzi, iperprecheranno questo pezzo, diversamente da come vivo l'avete immaginato, ma anche sull'interviste situazioni. E allora auguro così una, parlare di spettacolo, qualcosa di pubblico. Ecco, vi auguro una felice sera, che produce il volo spettacolo, e poi ci serve un'esercizio in mezzo, un'andata di vita. Fino alla fine, fino a più, prima e allora è assolutamente più inutile, volare i prossimi. Buona serata e buona amore. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buonasera, sono un angelo, un angelo un po' speciale. Sono un tipo curioso e mi piace sempre sapere tutto. A volte mi dicono che sono un po' le scatte, ma pazienza. Vorrei costruire con voi questa notte cosa è veramente accaduto quella notte di duemila anni fa. Quella che chiamano la notte santa, la notte in cui è nato Gesù. Lo farò facendo alcune scoperte. Infatti, i normati di microfono, come vedete, sono in quanto sono un angelo a passo con i tempi. Mi hanno detto di aspettare qui, davanti a questa capanna. Strano posto per far nascere il piccolo Gesù. Oh, ecco due persone che erano. Che fanno, William? Se questo sentiero pubblico è il cuore della notte, potreste fare cartellino? Sono Giuseppe. Sono Giuseppe. Il falegnale è venuto da nascere. Sto cercando un rifugio per mia moglie e maria, che sta veramente accaduto. È davvero difficile trovare un posto per voi questa notte. C'è molta gente in giro. C'è un grave momento a causa del censimento ordinato in giro. E lei, signora, non è stanca? Oh, sì. Ci siamo sentiti ripetere tante volte il risposto qui. Siete davvero un insieme. Lei, Maria, mi sembra molto trovata dal viaggio e dalle proprie. Ce la faremo. Il signore Dio è con noi, non ci abbandona. C'è un uretto di gestire con capanna il posto. Allora, voi famigli, siate contenti. La notte buia e piena di sede. Allora, voi famigli. La notte buia e piena di sede. Nel nuovo Israele è nato il Signore, il fiore più bello fra tutti i fiori. Danna per un po' pulitore all'altissimo, danna per un po' pulitore al Signore. Danna per un po' pulitore all'altissimo, danna per un po' pulitore all'altissimo, danna per un po' pulitore all'altissimo. Danna per un po' pulitore all'altissimo, danna per un po' pulitore all'altissimo, danna per un po' pulitore all'altissimo. Danna per un po' pulitore all'altissimo, danna per un po' pulitore all'altissimo. Danna per un po' pulitore all'altissimo. Danna per un po' pulitore all'altissimo, danna per un po' pulitore all'altissimo, danna per un po' pulitore all'altissimo. Danna per un po' pulitore all'altissimo, danna per un po' pulitore all'altissimo, danna per un po' pulitore all'altissimo. Grazie a tutti